buongiorno a tutti piazzale dell'autoroin bello fresco stamattina non so quanto fosse ma sicuramente non siamo molto sopra i zero gradi va bene comunque notizie fresche allora vediamo assistiamo un fenomeno che ormai è diventato una rarità è come un eclissi di luna o di sole quelli che passano i 56 anni perché vediamo praticamente la gamma l'attuale gamma vestalia e contenti a soffietto gli manca solo manca solo il kelsey kelsey o kelsey poi mi direte come si pronuncia che sarà fatto su for transit che però attualmente non c'è ancora ci sarà da fine 2022 queste macchinine qui che vediamo qui adesso hanno già tutta una famiglia una familiola che li aspetta per cui sono già tutte adottate le prossime arriveranno fine 2022 perché come tutte le signore si fanno aspettare andiamo avanti kepler 5 4 metri 89 per cui lungo come un california omologato cinque posti e poi lo andiamo a vedere passiamo ancora a kepler one il classico quello nato nel 2016 con il bc e l'acqua calda passiamo a kepler six il più versatile del mondo il più versatile sicuramente di questi van perché omologato sei posti e ci si può comunque dormire in quattro anche viaggiando con sei sedili in macchina poi lo vediamo e qua jules verne la perla del del discorso il più prezioso su meccanica mercedes vito tutti gli altri tre che abbiamo nominato sono su meccanica volkswagen t6 attualmente benissimo andiamo avanti di spromba tutto perché altrimenti prima che io mi congeli ma ciò non succederà con molta facilità ma c'è sempre a tenere in considerazione questa possibilità passiamo a vedere kepler 5 kepler 5 come è fatto qua dietro ha due blocchi blocco frigo e armadietti armadietti molto profondi fino là in fondo è vero guardate un po qua mica da ridere qua ci sta un sacchissimo di roba e il frigo da non chiedertemi quanti litri 45 litri immagino vitri frigo con ghiacciaia molto bene da quest'altra parte la cucina con lavandino due fuochi cassettini cassettini e qua ci va la bombola del gas da 3 kg la parte più interessante interessante intelligente è questa qua è questa qua dove c'è questa panca questa pancona che è dunque la panca è omologata da 5 da 3 posti scusate perché la macchina complessivamente ne ha 5 due davanti e poi questi ma cosa l'interessante che si trasforma facilmente in letto semplicemente girando l'avete vista ancora questa no girando questo in avanti questo viene abbattuto e quello dietro scende benissimo qui non abbiamo acqua calda e non abbiamo il porta e non abbiamo il vc fisso però possiamo mettere in quel posticino lì ecco ci sta benissimo un porta poti che viene fornito a parte bene due letti sopra classici che scendono qui così due letti 3 anche qui chiaramente un po strettini mi pare 110 questo è largo come un letto di un california praticamente e però si sviluppa in questo senso in modo molto comodo perché permette comunque di andare davanti a dietro eccetera eccetera bene qui ho smontato il tavolo vedete che normalmente va lì sopra ma l'ho smontato per far vedere questa operazione benissimo andiamo avanti come andiamo avanti andiamo avanti andiamo avanti con kepler 1 kepler 1 l'abbiamo presentato decine di volte però insomma ripetita juvent per cui andiamo avanti ecco questo è 5 metri e 30 dunque diciamo riassumiamo il kepler 5 è l'unico che è su trans scusate si su transporter dico bene no su t6 4 metri 89 cioè la stessa lunghezza del volkswagen california per farci sempre una un paragone con cose che conosciamo molto bene kepler 1 e kepler 6 sono ci sui sul passo lungo 5 metri e 30 ovviamente perché hanno bisogno di più spazio per ospitare quello che andiamo a vedere allora kepler 1 dinette la dinettina che fa tutto il giro qui togliendo questo tavolo e mettendolo su questi appoggi più tirando quei due comodini qui tirando in fuori il insomma lavorandoci un attimo e mettendo quei due materassini si riesce a fare un bel lettone qui sotto e quello sopra chiaramente c'è sempre solito letto che si abbassa eccolo lì basta abbassarlo e via andiamo entriamo in macchina luci ambiente sotto molto carine bellissimo sarebbe presentarlo di notte ma non si vedrebbe all'esterno e comunque basta che veniate qui di sera e lo vedete nella sua nella sua come dire con un con un insieme di luci ambiente eccetera che danno veramente un'ambientazione come dire suggestiva piacevole va bene cucina lavandino cassetti cassettini eccetera tutto quello che ci sta adesso non sto aprire tutti i cassetti altrimenti stiamo qua tutto il giorno questo cassetto molto comodo per le bottiglie e quant'altro benissimo qui sotto c'è il famoso truma boiler da 10 litri a gas che perché perché questa macchina ha il riscaldamento scusatemi il riscaldamento è questo qua con questa bocchettina qua un classico vebasto diesel come california invece il boiler è a gas come la cucina il frigo è lì dentro ed è a compressore che va funziona con il i 12 volt questa macchina è dotata di due batterie di servizio agm da 95 ampere ora quadretto di controllo di tutto quanto vebasto truma presette usb tutto il pannellino di controllo eccetera ecco qua qui c'è il discorso di vc e doccia allora vc da camper vero e proprio chiaro con la cassettina per vuotarlo piatto doccia togliendo questa pedana vediamo che c'è il piatto doccia che scarica direttamente nel serbatoio delle acque grigie qui dentro c'è una tela vedete con un anello di plastica che viene fissata a quei pirulini lì sopra se si vedono eccoli là uno due tre e poi ce n'è tutto in giro per creare un imbuto tessile per portare l'acqua della doccia che vi fate qua dentro dentro al piatto doccia oppuramente è chiaro che la doccia qui sportivamente l'estate o anche l'inverno per i più temerari si può fare anche qui all'esterno perché la luccina qui calda e fredda funziona 50 litri di acqua fresca 10 litri di boiler di acqua calda per cui complessivamente se riempiamo tutto bene gonfio abbiamo 60 litri di acqua di autonomia mi pare siano 36 quelle grigie bisogna vuotarle un po' più frequentemente e via interno molto piacevole bellissimo come dire cioè piace piace un sacco perché è bellissimo in effetti vedete che vedete che arredamento è stato fatto in questa macchina benissimo ok andiamo avanti e facciamoci un giretto vedendo Kepler 6 Kepler 6 Kepler 6 cos'ha di particolare? e diciamo che al di là del fatto che non ha il vc gli possiamo mettere e in questa macchina lo metteremo un porta poti così sportivo d'emergenza ma la versatilità è il mezzo più versatile che c'è in Europa questo qui perché questo viene sempre omologato sei posti viene fornito con due posti posteriori ma poi se ne possono aggiungere altri due vanno comprati a parte su questo li metteremo altri due eccoli qua eccoli qua no non ci sono ancora li metteremo perché ci staranno cosa succede nonostante abbiamo sei posti possiamo viaggiare in sei chiaramente il tavolino lo toglieremo lo metteremo qui nella porta nella porta sinistra potremo mettere quattro sedili e viaggiare in sei tranquillamente dopodiché quando vorremmo basterà abbattere gli schienali dei sedili e tirare avanti questo letto vedete questo letto a falda si tira qua si appoggia sui sedili qui anteriormente poi a due piedini per appoggiarsi a terra e diventa un bel lettone tutto piano qua sotto ah già che ci siamo ovviamente vediamo cucina a gas e lavandino e il frigo a pozzo stile california ancora unità di controllo lì sopra vebasto riscaldamento vebasto questo non ha il boiler dell'acqua calda è un optional però normalmente chi acquista quest'auto non usufruisce del boiler eccoci qua andiamo avanti qui vediamo ci sono in dotazione uno grande e uno piccolo bauletto l'abbiamo visto lì davanti possono essere messi dove si vuole perché si fissano con quei gallettini lì per cui tranquillamente luci di luci di lettura va bene presa per la doccia esterna fredda ma comunque per i temerari presa 12 volt e va bene questo letto può essere anche tolto e lasciato a casa tranquillamente per cui uno può usare come pulmino e quando gli serve di dormire dorme sopra oppuramente portarsi questo coso questo letto appresso eccetera allora qui poi vi dirò la misura esatta perché non ce l'ho in questo momento mi sono dimenticato il metro la misura della larghezza qui perché posso immaginare che posso ipotizzare comunque che qui siccome questo letto comunque finisce qua vedete da qui a qui abbiamo una cinquantina di centimetri dove possiamo caricarci delle cose ancora verticalmente non so dirvi se ci stanno delle biciclette o meno chiaramente questo baule si spinge in avanti o indietro o si toglie o si lascia a casa come si vuole eccetera ah scusate al ciacchi della stagione allora c'è da dire una cosa che se togliamo questo letto e mettiamo i sedili siccome questi sedili li possiamo mettere uno dietro all'altro anche tre da una parte uno dall'altra insomma come si vuole perché abbiamo scine vedete che abbiamo le rotaie sia di qua che di là da in fondo fino in cima la macchina per cui è modularissima si fa tutto quel che si vuole e se mettiamo i sedili da una parte o dall'altra ci rimane un corridoio intero per metterci tutto quello che volete voi perché è lunghissimo è lunghissimo perché va da qua dai sedili anteriori fino a dietro per cui metteteci probabilmente anche una tavola da windsurf o da surf o da aiutatemi con gli amici sportivi perché io non sono molto ferrato su queste cose comunque voglio dire biciclette che ne so io metteteci la vespa fate quel che volete va bene voglio dire eccoci quello che volevo dire che voglio sottolineare ormai l'ho fatto penso cento volte la modularità la flessibilità la adattabilità di questo mezzo a qualsiasi esigenza o chiaro che non ho detto se togliamo tutto diventa un garage capito immaginatevelo soltanto non sto qui a farlo perché come dico stiamo qua tutta la mattina ma se togliamo tutta questa cosa abbiamo un corridoio qui un tunnel capito una cosa cioè c'è gente che si deve prendere merenda per arrivare fino là in cima va bene andiamo avanti adesso e parliamo di dell'ultima dell'ultima chicca forse la più preziosina jules verne su meccanica vito questo 163 cavalli automatico e va bene facciamo un intermezzo tutti questi mezzi si possono avere tendenzialmente ormai si ordina tutti col cambio automatico perché manuale è pochissimo usato da questi marchi ormai e forse neanche più in produzione e tutti possono essere quattro ruote motrici ordinandoli chiaramente nel senso che normalmente il t6 è a trazione anteriore oppure for motion quadro per quattro il vito è normalmente trazione posteriore for for matic lo chiamano loro nel caso di se lo si vuole quattro per quattro benissimo cosa andiamo a vedere di questa macchina questo qui non ve lo racconto tutto nel dettaglio perché è praticamente identico a a kepler one che abbiamo visto prima vedete no la differenza è che se kepler one 5 metri e 30 di lunghezza invece vito questo è 5 metri e 14 a qualcuno fa comodo che sia come chi ha acquistato questa macchina preferisce mercedes anche perché a questi 15 centimetri di ingombro in meno benissimo vedete che il resto ricalca assolutamente quello che è il kepler one qui possiamo averlo e questo è stato ordinato così io l'avevo ordinato così perché a me piace così con la porta scorrevole anche sinistra di modo che di qua la possiamo anche fare i tuffi tirarci le cose giocare a palla se togliamo il tavolino e il comodino qui così che serve per fare il per formare il letto sotto come vi ho raccontato prima qui tranquillamente si parte no non lo so insomma è una questione di comodità dai stavo scherzando una questione di comodità che comunque chi è su questo sedile per esempio allora facciamo un esempio togliamo questo comodino qui lo lasciamo da un'altra parte o anche a casa insomma se non ci serve lo stesso e i due passeggeri questo passeggero senza far scomodare l'altro a scendere può scendere da questa parte questa costa mille euro in più questa porta qui ma tutto sommato penso che poi ne valga la pena bellissimo bianco versione avant-garde avant-garde vuol dire con un po di cromature come avete visto no delle finiture estetiche ruote da 17 pollici in lega originali mercedes bellissimo io signori chiudo qui la presentazione di questi cosa dire stupendi mezzi purtroppo si fanno desiderare un po troppino perché noi avremo bisogno e voglia di comprarli di proporne di più cioè ce ne chiederebbero di più di quanti la casa riesca a fornircene ma insomma il momento è fatto così allora ah non vi ho detto i prezzi questa macchina è sui 66 mila euro perché è il cambio manuale ancora il cambio manuale poi i prossimi forse saranno a col cambio automatico ci saranno degli aumenti di prezzo io vi dico i prezzi di adesso di fine 2021 che ho in testa e sono già aumentati del mi pare uno e mezzo per cento insomma poi vabbè i listini dei costi di queste macchine li vedremo strada facendo a seconda del momento eccetera eccetera allora 66 70 cambio automatico 150 cavalli a tutti i volkswagen qui sono 150 cavalli è la potenza che va benissimo e non ci dà pensieri e problemi allora automatico 150 cavalli 70 mila automatico 150 cavalli 70 mila è qualcosa in più per il metallizzato chiaramente 76 questo avant garde come lo vedete qui per grosso modo io vi parlo di questi prezzi che comprendono le spese di trasporto pre consegna e i documenti per cui sono completi non vi faccio le sorprese poi dei 2000 euro in più alla fine della del discorso e per cui prezzi franco auto roen e vi parlo anche di macchine che abbiano già certe cose tipo volante multifunzione il pelle poi i fendinebbia poi acc oppure il distronic per quanto riguarda mercedes e il retrocamera sensori anteriori e posteriori c'è dentro l'autoradio e quant'altro mi pare sia tutte qui le cose che normalmente ordino per avere una vetturina che uno sale e parte e ha tutto quello che gli serve vi ringrazio da auto roen allora auto roen si chiama www.auto roen.it canale youtube dove trovate anche questo e tutti gli altri filmati mamma mia filmati auto roen.it di giuliano pezzini su youtube iscrivetevi telefono 340 718 3988 ebbene io vi saluto con tutti questi vestfalia con i tetti a soffietto siamo qua siamo a disposizione e cosa vi devo dire buon camper tutti i giorni a tutti quanti auguriamo buona vita a queste macchinine che prenderanno fra poco saranno immatricolati e prenderanno la strada la loro strada insieme a chi li ha adottati grazie a tutti buona giornata da giuliano dell'auto roen un saluto e questa doveva essere una giornata uggiosa e piovosa invece per fortuna ci sta regalando anche una giornata abbastanza carina dove fredda però però insomma siamo in montagna e fine novembre dovete fare ciao grazie a tutti buona giornata